Per tutta Argentil veniva chiamata la signorina Hortens. Nessuno sapeva perché. Forse perché parlava con tono deciso, come un ufficiale, mentre comanda. Forse perché era alta, ossuta, imperiosa. Forse perché governava un popolo di animali domestici, galline, gatti, canarini e pappagalletti, animali cari alle zitelle. Ma ella non coccolava le sue bestie. Non le trattava con paroline dolci o con quelle puerili tenerezze che sembrano gocciolare dalle labbra delle donne sul pelo vellutato del gatto che fa le fusa. Governava i suoi animali con autorità. Regnava. Era infatti una zitellona, una di quelle zitellone con la voce secca e gesti bruschi, le quali pare che abbiano il cuore duro. Erano capitate sempre delle buone domestiche, perché la gioventù si piega meglio alle volontà rigide. Non ammetteva contraddizioni o repliche o esitazioni o svogliatezza o pigrizia o stanchezza. Nessuno l'aveva mai sentita lamentarsi o rammaricarsi di una qualsiasi cosa o invidiare chi che sia. Diceva, ognuno alla sua parte, con convinzione di fatalista. Non andava in chiesa. Non le piacevano i preti, non credeva nemmeno in Dio e chiamava le cose della religione roba per piagnoni. Da trent'anni, che abitava nella sua casina col giardinetto sulla strada, ella non aveva mai mutato abitudini. Soltanto mandava via spietatamente le serve, quando compivano ventun'anni. Sostituiva senza lacrime e senza rimpianti cani, gatti e uccelli che morissero di vecchiaia o per un accidente. Sotterrava gli animali morti in un'aiuola, servendoci di una piccola vanga. Poi spianava la terra strisciandovi sopra il piede, con indifferenza. In città aveva qualche conoscenza, in certe famiglie di impiegati, i quali lavoravano a Parigi e ci andavano tutti i giorni. Di tanto in tanto li invitavano la sera a prendere il tè. Durante queste riunioni immancabilmente ella si addormentava. Dovevano svegliarla quando era ora di tornare a casa. Non permetteva mai a nessuno di accompagnarla, perché non aveva mai paura, né di giorno né di notte. Pareva che i bambini non le piacessero. Impegnava il tempo in mille lavori da uomo. Faceva da falegname e da giardiniere. Tagliava la legna con la sega o con l'ascia. Riparava la sua vecchia casa e all'occorrenza faceva anche la muratore. Aveva dei parenti che venivano a trovarla due volte l'anno. I Sim e i Colombelle. Le sue due sorelle avevano sposato, una un erbolista e l'altra un piccolo possidente. I Sim non avevano figlioli. I Colombelle ne avevano tre. Henry, Pauline e Joseph. Henry aveva vent'anni. Pauline diciassette e Joseph appena tre. Infatti era nato quando pareva impossibile che sua madre fosse ancora feconda. Nessun legame d'affetto univa la zitella e suoi parenti. Nella primavera del 1882 la regina Hortense s'ammalò all'improvviso. I vicini andarono a chiamare un medico ed ella subito lo buttò fuori. Allora si presentò un prete ed ella si alzò dal letto mezzanuda per buttar fuori anche lui. La servetta in lacrime le preparava qualche decotto. Dopo tre giorni di letto le sue condizioni parevano così gravi che il bottaio lì accanto dietro consiglio del medico che era ritornato nella casa di prepotenza si presero responsabilità di chiamare i parenti. Costoro giunsero con lo stesso treno verso le dieci di mattina. I Colombelle avevano condotto anche il piccolo Joseph. La prima cosa che videro all'ingresso del giardino fu la servetta che piangeva su una sedia con la faccia verso il muro. Il cane dormiva sullo zerbino della porta d'ingresso sotto un'ardente pioggia di sole. Due gatti che parevano morti stavano allungati sui davanzali delle due finestre con gli occhi chiusi le zampe stecchite e la coda stesa. Chiocciando una grossa gallina portava a spasso per il giardino un battaglione di pulcini vestiti di piumino giallo leggero come ovatta. Una gran gabbia appesa al muro ricoperta di centonchio ospitava una popolazione di uccelli che si sgolavano nella luce di quella calda mattinata di primavera. Due pappagallini in un'altra gabbietta fatta come una casina stavano buoni buoni l'uno a fianco all'altro. Il signor Sim una maccione sbuffante che entrava dappertutto per primo quando era necessario facendo scansare gli altri uomini o donne chiese. E così celeste non va bene? La servetta gemè fra le lacrime. Non mi riconosce neanche più? Il dottore dice che è alla fine. Tutti si guardarono. La signora Sim e la signora Colombelle si abbracciarono immediatamente senza proferire parola. Si somigliavano molto. Si erano sempre pettinate coi capelli divisi in due bande e avevano sempre portato scialli rossi di cashmere francese sfavillanti come braceri. Sim si voltò verso il cognato un uomo pallido giallo e secco rovinato da una malattia di stomaco che zoppicava paurosamente ed esclamò con serietà. Caspita era ora? Ma nessuno ardiva entrare nella camera della morente posta al pian terreno. Perfino Sim si tirava indietro. Colombelle si decise per primo ed entrò dondolandosi come l'albero d'un veliero facendo risuonare il ferro del bastone sull'impiantito. Dopo di lui si arrischiarono le due donne e il signor Sim chiuse il corteo. Il piccolo Joseph era rimasto fuori sedotto dalla vista del cane. Un raggio di sole tagliava in due il letto illuminando in pieno le mani che si agitavano nervose continuamente aprendosi e chiudendosi. Le dita si muovevano come animate dal pensiero come se volessero esprimere qualcosa qualche idea come se obbedissero all'intelletto. Il resto del corpo rimaneva immobile sotto il lenzuolo. Il viso angoloso non aveva un sussulto. Gli occhi erano chiusi. I parenti si disposero in semicerchio silenziosi e si misero a guardare col petto presso il respiro corto. La servetta li aveva seguiti e seguitava a pianucolare. Finalmente Sim chiese insomma che cosa ha detto di preciso il dottore. La serva balbettò. Dice di lasciarla in pace. Non c'è più nulla da fare. Ma ad un tratto le labbra della zetella cominciarono a muoversi. Pareva che pronunziassero parole silenziose, parole nascoste in quella testa di moribonda, mentre le mani acceleravano quel loro singolare movimento. Improvvisamente si mise a parlare con una vocettina magra che nessuno le conosceva. Una voce che pareva venire da lontano, forse dal profondo del suo cuore sempre chiuso. Sim se ne andò in punta di piedi trovando penoso quello spettacolo. Colombel sentendosi stanca la gamba storpia si mise a sedere. Le due donne rimasero in piedi. Ora la regina Hortense chiacchierava rapidissima senza che ci potesse capire nulla di quanto diceva. Pronunciava dei nomi, molti nomi, chiamava teneramente persone immaginarie. Vieni qui piccolo Philippe, vieni a dare un bacio alla mamma. Vuoi bene alla tua mamma, eh, bambino mio? Rose, tu starai attenta alla tua sorellina mentre io sarò fuori. Soprattutto non lasciarla mai sola, siamo intese, e ricordati di non toccare i fiammiferi. Taceva per qualche istante, poi a voce più alta, come chiamando Henriette, aspettava un momento e soggiungeva. Dì a papà che gli voglio parlare prima che vada in ufficio. E poi non mi sento troppo bene oggi, caro. Promettimi di non tornare tardi. Dirai al capufficio che sono malata. Capisci che è pericoloso lasciare i ragazzi soli mentre io sono a letto. Per pranzo ti farò un piatto di riso dolce. Piace tanto ai bambini. Chissà come sarà contenta Claire. Si mise a ridere, giovanilmente e rumorosamente, come non aveva mai riso. Guarda, guarda Jean come si è conciato il viso. Ti è impastricciato di marmellata quel sudicetto. Guardalo tesoro, quanto è buffo. Con un bel, che ogni poco cambiava posto alla sua gamba stanca dal viaggio, disse sottovoce. Sogna di avere dei figli e marito. È il principio dell'agonia. Le due sorelle non si erano ancora mosse, sorprese e instupidite. La servetta disse. Levatevi lo scialle e il cappello. Volete passare in salotto? Esse uscirono senza aver detto una parola. Colombelle seguì zoppicando e la moribonda restò di nuovo sola. Quando si furono sbarazzate dei loro abiti da viaggio, le donne si sedettero. Uno dei gatti si levò dalla finestra, si stirò, balzò nel letto e di lì sulle ginocchia della signora Sim, che cominciò a carezzarlo. Dalla stanza accanto giungeva la voce dell'agonizzante, la quale in quell'ultima ora viveva la vita che certamente aveva sperato, esprimeva i suoi sogni proprio nel momento in cui per lei tutto stava per finire. Sim in giardino stava giocando col piccolo Joseph e col cane e si divertiva assai con quella sua allegria di maccione che è andato in campagna, senza pensare minimamente alla moribonda. A un tratto rientrò in casa e rivolgendosi alla serva. Senti ragazza, bisogna che tu ci dia da mangiare. Cose preferite, signore mie? Si accordarono su una frittatina con gli odori, un pezzo di filetto con le patatine novelle, formaggio e una tazzina di caffè. E poiché la signora Colombelle si frugava in tasca per cercare il borsellino. Sim la fermò e rivolto alla serva. Hai soldi, no? Sì, signora, rispose ella. Quanto? Quindici franchi. Bastano. Sbrigati, figliuola. Comincio ad aver fame. La signora Sim, che stava fuori ad ammirare i rampicanti in ondaggi di sole e due piccioni in amore sul tetto di fronte, esclamò con tono afflitto. Che peccato essere venuti in una occasione tanto triste. Oggi sarebbe proprio la giornata adatta per stare in campagna. Sua sorella sospirò senza rispondere e Colombelle, forse turbato dal pensiero d'una passeggiata, mormorò. La gamba mi dà parecchio noia. Il piccolo Joseph e il cane facevano un chiasso indiavolato. Il primo gridava dalla contentezza, l'altro abbaiava per difiato. Giocavano intorno alle tre aiuole, rincorrendosi come matti. La moribonda si guetava a chiamare i suoi figliuoli. Discorreva con ognuno di loro. Si immaginava di vestirli, di carezzarli, di insegnargli a leggere. Su, Simo, ripeti. A, B, C, D. Non pronunci giusto. Via. D, D, D. Mi senti? Via. Ripeti ancora. Simo esclamò. Che stramberie si dicono in momenti simili. Allora la signora Colombelle propose. Sarebbe meglio tornare dentro. Ma Sim la dissuase subito. A far che cosa, dato che non possiamo mutare le sue condizioni? Stiamo benissimo qui. Nessuno insistette. La signora Sim guardava i due pappagallini, di quelli che sono chiamati inseparabili. Disse qualche frase di elogio per la singolare fedeltà di quelle bestiole e di biasimo per gli uomini che non le imitano. Sim si mise a ridere. Guardò la moglie canticchiando in tono beffardo. Rallallà, rallallà, come per far capire tante cose sulla sua fedeltà. Di lui, Sim. Colombelle aveva i crampi allo stomaco e picchiava il bastone sul pavimento. Il secondo gatto entrò a codaritta. Si misero a tavola soltanto all'una. Appena ebbe assaggiato il vino, Colombelle, al quale era stato raccomandato di bere soltanto brodo di qualità, richiamò la serva. Dimmi un po', ragazza. Non avete niente di meglio in cantina? Sì, signore. C'è il vino buono che vi servivo quando venivate qui. Benone, vai a prenderne tre bottiglie. Assaggiarono quel vino che fu giudicato eccellente. Non che fosse di gran provenienza, ma era in cantina da quindici anni. Sim dichiarò. È un vero vino da malati. Colombelle provò una gran voglia di possedere quel vino e interrogò di nuovo la serva. Quanto ne rimane ancora, figliuola? Ah, quasi tutto, signore. La signorina non lo beveva mai. È il mucchio in fondo. Allora Colombelle si rivolse al cognato. Se credete, Sim, prenderei la vostra parte di vino in cambio di qualche altra cosa. Si confà meravigliosamente al mio stomaco. Anche la coccia era entrata col suo branco di pulcini. Le due donne si divertivano a buttarle le briciole. Giuseppe e il cane, avendo mangiato abbastanza, furono rimandati in giardino. La signora Hortense parlava sempre, ma sottovoce, sicché non si distinguevano più le parole, sicché non si distinguevano più le parole. Quando ebbero bevuto il caffè, andarono tutti a constatare le condizioni dell'ammalata. Pareva tranquilla. Tornarono fuori e si sedettero in crocchio, in giardino, per fare la siesta. Ad un tratto il cane si mise a girare intorno alle sedie a tutta velocità, tenendo qualcosa in bocca. Il bambino correva dietro di caloppo. Scomparvero entrambi nella casa. Sim si addormentò con la pancia al sole. La moribonda riprese a parlare ad alta voce. Poi improvvisamente si mise a gridare. Le due donne e colombel si affrettarono ad entrare, per vedere che cosa avesse. Sim svegliatosi, non si mosse perché quelle cose non gli piacevano. Sarà messa a sedere, con gli occhi sbarrati. Il cane, per sfuggire alla caccia del piccolo Giuseppe, era saltato sul letto. Aveva scavalcato l'agonizzante. c'era rifugiato dentro ai guanciali e guardava il suo compagno con occhi luccicanti, pronto a slanciarsi di nuovo per riprendere il gioco. Teneva in bocca una pantofola della sua padrona, tutta strappata dalle dentate, dopo un'ora che ci giocava. Il bambino, intimidito dalla donna rizzatasi all'improvviso di fronte a lui, stava immobile davanti al letto. La chioccia, che era entrata anch'essa, spaventata dal chiasso, era saltata su una sedia e chiamava disperatamente i suoi pulcini che pigolavano atterriti tra le quattro gambe della sedia. La regina Hortense gridava con voce straziante. No, no, non voglio morire, non voglio, non voglio. Chi alleverà i miei figliuoli? Chi avrà cura di loro? Chi gli vorrà bene? No, non voglio, no. Si arrovesciò sul dorso. Era finita. Il cane, eccitatissimo, saltò nella camera sgambettando. Colombel corse alla finestra e chiamò il cognato. Venite, venite, svelto. Deve essere spirata. Allora Sim si alzò e decidendosi a malincuore entrò nella camera, balbettando. Ha durato meno di quanto immaginassi.